E' nato prima il cinema o la tua testa a casa? Io mi ero avvicinato con un timore reverenziale, capito? Una persona così, capiti per i Macchitto, sembra una specie di mastino che abbaia e morde e in realtà è una creatura dolcissima. Molti film sono stati influenzati dalle sue idee, dalla sua sicurezza, dalla sua sapienza. Io ho tutto un guardaromba che sta nell'alto di un armadio, che ho tutto Venezia. Venezia è la prima alcistina, roba che non ha idea. Questo è uno studio in cui è passata una costola della cultura italiana di sinistra. E anche della politica italiana di sinistra. E anche della politica italiana di sinistra. Le difficoltà che tante volte avevo con loro o le soluzioni che con loro si sono trovate mi confortano, capito? Le donne poche, perché lo studio ha sempre avuto poche donne, credo per colpa di Giovanna, non ha voluto rivali. Il sogno ricorrente di Marcello era un letto matrimoniale in cui c'era in mezzo Potti da una parte Sofì e dall'altra parte lui. Potti in mezzo però. Potti in mezzo. Quando si continua a lavorare, e si può lavorare perché io faccio una professione che me lo consente, si resta più giovani. Potti in mezzo. Potti in mezzo. Potti in mezzo.